Prima tappa, è la coscienza nella certezza sensibile, no? Allora, primo momento, la coscienza nella sua certezza sensibile, so questo e quello, anzi avverto questo e quello. Percezione, ma se riflettiamo un momento nella percezione, in qualunque percezione, anche nella più elementare percezione, vi è qualcosa di più della percezione, no? Possiamo fare esperienza del percepire sensibilmente qualcosa che non sia anche qualcosa di più di un mero percepire. Il fatto stesso che io dica avverto di percepire, sento qualcosa, non significa qualcosa di più che del sensibile. Il tedesco ha due termini con i quali noi facciamo fatica a giocare, no? Uno è il termine aufnemung, che vorrebbe dire proprio la percezione immediata. E un altro è il termine wahrnemung, in cui, che vuol dire lo stesso percezione, ma la percezione wahr, in cui ne va già della dimensione della verità. Das ware. Quindi, nella percezione sensibile, vi è già questa contraddizione. Io sento sensibilmente questo, ma avverto che nel momento stesso che dico di sentire, e io sono già oltre la dimensione meramente passiva della sensibilità, io dico di sentire, dico, è vero che sento, wahrnemung. E quindi, già nella dimensione della certezza sensibile, gioca già la coscienza, nella sua prospettiva di, se volete, liberazione dalla mera passività, dalla mera ricettività. Già la coscienza non è più meramente ricettiva passiva, quando siamo nella dimensione della percezione. Dunque, coscienza del vero nella percezione, Cioè, del soggetto attivo che noi siamo, della autocoscienza, in ogni percezione è già in gioco una dimensione di autocoscienza. Io sento, io sento. Quindi il soggetto già si pone come costitutivo della percezione stessa. Della autocoscienza. Che cos'è l'autocoscienza? Essenzialmente. Anche qui riflettiamo per conto nostro, facendoci aiutare da Hegel, ma cerchiamo di ragionare per conto nostro. Se abbiamo seguito questo primo movimento e entriamo nella nuova dimensione dell'autocoscienza, noi, i soggetti, ma che cos'è che ci determina essenzialmente come soggetti? Perché che cosa esprime essenzialmente, nel modo più essenziale e originario, il mio essere io? Il mio desiderare. Io desidero. Parlate che qui c'è già Schopenhauer, se volete. Io desidero. Io posso fare a meno di fare il matematico, di fare il fisico, di fare il medico, di fare il filosofo, ma di che cos'è che non posso fare a meno in quanto autocoscienza? Di desiderare, di appetire. Io sono un esserci tutto rivolto a fuori di me. Ec statico desidero. E' formidabile le pagine hegeliane sulla forza del desiderio. Ma come si pone il desiderio all'inizio? Il nostro desiderio all'inizio come si pone? In termini oppositivi, contraddittori, febbre del negativo. Non è così? Io desidero afferrare quella cosa, possederla quella cosa. Io desidero il riconoscimento dell'altro. Io desidero appropriarmi dell'altro, che l'altro riconosca la mia potenza. Non è così che si esprime il desiderio all'inizio. Anche nel bambino afferrare, possedere è mio, in termini oppositivi alla cosa, in termini oppositivi all'altro. Cioè io inizialmente desidero affermarmi contro l'altro. Il desiderio all'inizio si pone in questa figura, in una figura di avversione. Ma che cosa determina questa situazione? Determina una situazione di perenne infelicità. Non è così? E' chiaro, quando mai finirò di volermi appropriare dell'altro? Se l'autocoscienza si ponesse soltanto nella forma di questo primo desiderio, sarebbe una coscienza infelice, perché continuamente destinata a desiderare altro e altro e altro, senza mai fine, senza mai termine. E non solo, in opposizione all'altro. Quindi si troverebbe sempre contro l'altro, no? Desidero impossessarmi di quella terra, desidero dominare quel popolo, e l'altro mi è contro, resiste, ed è guerra. E quindi la mia coscienza è costantemente una coscienza infelice, che sta in lotta, mai in pace, che non può mai raggiungere, come dice Hegel, la befriedigung, la conciliazione. E allora l'autocoscienza non sta in questa dimensione del puro desiderio, ma si evolve, si sviluppa ancora. E come si sviluppa? Si sviluppa in ragione, in ragione. La ragione comprende questa situazione della coscienza infelice, del desiderio e della infelicità di un perenne desiderare. E' la ragione che comprende questa situazione e quindi lavora per il suo superamento. E' la grande figura del dover essere, no? Anche qui ragioniamo noi per conto nostro. Se abbiamo seguito il movimento finora, che cosa avviene? Avviene che noi dobbiamo, sentiamo la necessità di doverci conciliare con il mondo, perché altrimenti la nostra infelicità è insuperabile. Il nostro desiderio ci condanna all'infelicità. Quindi la figura del dover essere, le figure kantiane, le figure illuministiche del dover essere. Cioè del dover superare l'opposizione tra il soggetto e il mondo, tra il soggetto e la realtà, tra noi e la realtà. E' l'epoca delle virtù, anche della virtù giacobina. Virtù. Noi dobbiamo, appunto, superare l'opposizione tra il soggetto e il mondo. Ma questo si pone nei termini, dice Hegel, del dover essere. Di un continuo e insaziabile dover essere. Sollen, in tedesco, la figura del dover essere.